Renzi è di destra perché prende i voti della destra. Allora vorrei scorporare il fatto politico. Io vi prego seguitemi non pensando alla politica. Pensiamo a un fatto materiale. C'è uno che ha un'azienda e ha un 40% delle azioni e vuole avere il 51% delle azioni di questa azienda. Allora cosa deve fare questo per arrivare dal 40 al 51? Ditemelo. Dovrà contattare dei soci che non fanno parte del 40 ma sono nel gruppo del 51 per vedere di portarli nel 40 e riuscire. In questo caso c'è il pagamento eccetera eccetera. Ma lasciamo stare il pagamento del passaggio degli onorevoli? Voglio scorporarla. Allora Renzi è di sinistra e può contare sui voti della sinistra. Allora la sinistra potrebbe essere Selli, Comunisti. Se mettiamo insieme tutto questo pacchetto di sinistra non superiamo con tutta la buona volontà il 40%. Se si vuole governare ci vuole il 51%. Allora cosa deve fare uno che ha il 40% e vuole... Deve costruire gente di sinistra? No, perché il 60% è di destra. Allora che cosa succede in Inghilterra? che i laboristi cercano di prendere i voti dei conservatori o i conservatori cercano di prendere i voti dei laboristi a seconda dei programmi che loro hanno e di quello che vogliono fare. La stessa cosa in America. Democratici e repubblicani. Se i repubblicani hanno il 40% e vogliono arrivare al 51% dove li vanno a prendere i voti? Dai repubblicani perché non c'è l'altra strada. Allora io mi domando, Renzi dove li deve andare a prendere? O li fabbrica, ma non è possibile, oppure cercherà di persuadere le persone che si sono rotte le palle, permettete il termine, con Berlusconi e cercherà di portarli con argomenti. Ma Tita Manini, caro mio, te mi dai la prova che Renzi l'è di destra? Perché ti hai dato il voto? Che modo di ragionare questo qui. Ho votato Renzi perché mi sono rotto le palle con una destra divisa, lasciamo stare a destra col gruppo che non è di Renzi perché divisi, sparpagliati l'accidente che ce lo porta e senza un programma mi hanno deluso. E allora ho detto proviamo ad andare dall'altra parte. Perché? Perché ho capito che alcuni programmi della sinistra non sono poi così dileteri e così disastrosi. Cosa doveva fare Renzi? Renzi, ma quello che ha detto tre anni fa non corrisponde a quello che ha detto oggi, mi dice il mio amico che è andato a leggere tutto quello che ha detto Renzi tre anni fa. Ma Renzi ha dovuto scendere anche a compromessi perché per poter governare col 40 devo andare a prendere i voti dall'altra parte. Allora se io voglio costruire una casa di dieci piani e ho la possibilità di costruirla solamente a nove, dovrò trovare da qualche parte qualche d'uno che mi dà una mano a costruirla a undici piani o no? Allora non credo che Renzi oggi lo si possa definire a nove. Certo, certo, certo. Che bisogna scendere a compromessi. Quello che doveva arrivare alle onde di piani e quell'altro doveva arrivare a nove, gli saranno arrivati a compromessi e le farne dieci. Uno lascia uno e l'altro lo mette l'altro. Io non lo so, guardate, sono deluso. Però, però, devono stare attenti questi signori politici di sinistra, devono stare attenti. perché c'è molta gente che di destra incomincia a pensarla diversamente. E allora non andiamo a demonizzare queste persone o a far apparire questo governo di sinistra come un governo fantoccio, un governo che non va bene perché prende i voti dall'altra parte. L'importante è che si facciano le cose. La Gina, la Ada e la Pia, le robe che si facciano. Uno mai dice, eh, forza, i governi di destra hanno fatto grandi cose. Guardate, voi potete dirmi quello che volete. Io mi ricordo, l'unica cosa che mi ricordo è che io fa la patente a punti. Io, vi giuro, altre cose fatte dai governi che c'erano su di destra non me le ricordo. Adesso, Renzi cercherà di prendere voti dove? Dove i voti ci sono? Certo, certo, che andando a prenderli da una certa corrente politica ci saranno dei compromessi. E analizzando quello che ha detto Renzi tre anni fa e quello che dice oggi probabilmente ci sono variativi. Ma cosa è successo in Grecia? Tutti i miei amici? Ah, te vedrete, voto Tsipras mi. Ah, pare, voi altri di destra. Pare, mi voto Tsipras. E cosa ha fatto Tsipras? Si è voluto governare? Tsipras, aveva il 35, non c'era un pacchetto azionario a sinistra per poter arrivare al 51, ha dovuto allearsi con un governo di destra, tipo Fratelli d'Italia. Allora, vogliamo guardarci nelle palle degli occhi e guardare la realtà delle cose. Per poter governare bisogna anche allearsi e bisogna prendere i voti dove ci sono. Certo, che la cosa che io desidero è che siano voti onesti e persone oneste che fanno queste scelte. Alla prossima.